buongiorno a tutti sono olga rivapiller sono cadorina di nascita e vivo sapada io partecipo volentieri arrestarlo miti su questo progetto meraviglioso questo è il mio studio dove io lavoro per il Rotary Club Cadore Cortina per aiuti umanitari e per l'Università degli Dunti Anziani è stata per me una sensazione incredibile quando è successo dopo quella notte io sono andata dalle parti nostre del nostro territorio dalle sorgenti del Piave al fondo del Peralba e mi sono trovata davanti a questa immagine incredibile questi sono boschi e alberi che sono cresciuti con noi della nostra gioventù e quindi ho avuto questa sensazione di sgomento che mi sono sentita così fragile e così impotente contro questa natura e ho avuto questo questo sensazione con questi colori e voglio e desidero proprio partecipare a quest'asta perché per me è molto importante che noi messaggiamo questo nostro territorio mi raccomando vi aspettiamo tantissimi all'asta del 26 gennaio perché questa sarà una cosa importante che bisogna proprio vederla